bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e anche oggi ragazzi tutte le notizie delle ultime 24 ore di fortnite le trovate racchiuse in questi pochi minuti nel video di oggi parleremo di regali ragazzi molti di voi durante le mie live sono molto tristi per il fatto che non sembra che siano arrivati i 14 giorni di fortnite e quindi non ci siano i regali di natale come l'anno scorso ma vi dico ragazzi non preoccupatevi perché quest'anno sono un pochettino diversi vedremo anche delle novità per quanto riguarda il fortnite nel 2021 e ovviamente tanti tanti leaks prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi e non può che trattarsi del natale come vi anticipavo ragazzi questa è un'immagine ufficiale che è presente nella pagina nel sito internet di fortnite nella sezione news buone feste dalla modalità creativa di fortnite ciao creatori mentre il 2020 volge al termine vogliamo ricapitolare alcuni degli eventi e delle novità più entusiasmanti del momento in modalità creativa oltre a dare nuovi fantastici progetti iniziative che sono solo alle fasi iniziali prima di partire per le vacanze vogliamo ringraziare tutti voi per aver reso il 2020 un anno fantastico siamo cresciuti così tanto quest'anno e sappiamo che insieme raggiungeremo ancora altri traguardi in futuro tutti nel team sono entusiasti di vedere dove ci porterà il 2021 anno nuovo giochi nuovi volete mettere alla prova le vostre capacità creative durante le feste create un gioco di ruolo sandbox una simulazione sociale un gioco di sopravvivenza una simulazione lavorativa e compila e inviate il modulo ufficiale come vedete c'è il link spie come noi lanciatevi nella mat spie come noi che tra l'altro è perfetta per la chat video di fortnite vi ricordo la chat di house party supporta un creatore 2.0 il nuovo e migliorato programma supporta un creatore accetta iscrizioni per iniziare compilate la domanda e inviate la guida creativa v1 non c'è mai stato un momento migliore per iniziare a creare in modalità creativa abbiamo pubblicato una serie di introduzioni alle guide creative su reddit e per terminare strumenti per la modalità creativa in anteprima date un'occhiata ad alcuni nuovi fantastici strumenti su cui stiamo lavorando nello streaming di fine anno quindi ragazzi tante novità per quanto riguarda il 2021 che ovviamente vedrà svolgersi un fortnite in un motore grafico totalmente nuovo la real engine 5 e andiamo avanti perché è proprio questo l'argomento di cui vi volevo parlare per due secondi lo avevamo già visto un po di mesi fa come notizia a real engine 5 arriverà completamente su fortnite nel 2021 e questo vorrà dire appunto una grafica totalmente nuova effetti speciali nuovi possibilità di interagire molto di più per quello che riguarda l'ambiente che ci circonda e ovviamente un'esperienza di gioco migliore tante cose le abbiamo già viste e le stiamo vedendo che ci fanno appunto avvicinare sempre di più alla realtà l'ultima che mi viene in mente è proprio la neve ragazzi sta nevicando e lentamente sta riempendo la mappa o ad esempio le nuvole che hanno deciso di inserire come il come si chiamano i cloud quelli realistici tanta tanta roba insomma ragazzi che con la real engine 5 sarà molto più facile da notare e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché ecco qua un'immagine davvero super interessante presente nei file di gioco come vedete sembrerebbe che arrivi qualcosa simile all'anno scorso c'è un caminetto la calza di natale sopra a real engine epic games non sappiamo se potrebbe essere nuovamente un qualcosa di interattivo o semplicemente un richiamo a un augurio di buon natale potrebbe essere qualsiasi cosa ma sappiamo che stanno per arrivare le sfide della operation snowdown quindi con il nostro snow mando la nuova skin che è presente tra l'altro anche come personaggio npc lo potete trovare già da adesso in mappa con la skin snowmando e con l'operation snowmando arrivano un sacco di regali che sono assolutamente riconducibili ai regali dei 14 giorni di fortnite guardate quanti premi addirittura sembra quella la una skin leggiamo la prima completa le quest di operazione snowdown e a me sembra che diano il regalo una skin la skin è quella del del pupazzone così come completa le quest di operation snowdown versione 2 anche lì un'altra skin sembrerebbe il regalo danza in diversi alberi di natale uno spray in regalo cerca forzieri all'outpost di snowdown un backpack in regalo piazza di una top 10 con un amico in squad arriva una copertura insomma ragazzi sono un sacco di sfide che danno un sacco di premi li andiamo a vedere un attimo molto velocemente in questa immagine e io direi che ci abbiamo preso quelle due in alto sono sicuramente delle skin poi abbiamo due backpack che probabilmente farà anzi un backpack e forse un piccone tre spray due coperture i regali sono davvero super interessanti e guardate qua ragazzi un backpack un deltaplano degli adesivi e due schermate di caricamento se realmente regalassero delle skin devo dire tanta tanta roba non è a quanto mi ricordo io mai capitato che abbiano regalato una skin per degli eventi totalmente gratuiti quindi ragazzi un applauso a fortnite va sicuramente perché ogni anno si dimostra sempre più vicino alla community e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché questa è un'immagine veramente incredibile oltre al fatto che sembra efesto tra 25 anni questa ragazzi è in realtà un estratto della stream di team sweeney team sweeney ragazzi come sapete è il ceo di epic games il capoccione dei capoccioni che ogni volta che va in stream mette sempre dei piccoli easter egg per farci capire quello che potrebbe accadere su fortnite l'ultimo easter egg e lo abbiamo visto nella chiusura della season 3 di questo capitolo 2 adesso mi sfugge un pochettino comunque quando abbiamo visto il l'evento all'autorità che è stato riconducibile in poche parole a quella lampada al plasma che ha lì davanti a lui quindi il punto zero lo zero point è davvero molto simile la cosa veramente importante e interessante in questa immagine è che le lampade al plasma sono due il che potrebbe davvero continuare a significare un discorso di collegamento è tutto collegato vi ricordo le parole di danato mostarda le due lampade con dentro i fulmini potrebbero appunto rappresentare questo collegamento tra le due mappe e questo nuovo sovrastare della mappa della season 1 con le proprie location in quella della season 2 sono davvero molto molto curioso di vedere come decideranno di continuare insomma ragazzi io anche per oggi tutte le news ve le ho dette vi ringrazio tanto per avere guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su raga dai premetelo lasciatelo commentino se volete aiutarmi a portare questo video nei consigliati noi ci vediamo alle 8 in live su twitch ciao